Dunque, intanto io non voglio rassicurare nessuno, attenzione, il problema c'è, non c'è da rassicurare nessuno, c'è da intervenire. Perché è tempo che noi conosciamo il fatto che lì, purtroppo, un sistema importante e delicato, che è rappresentato dall'autostrada, dal laboratorio e dall'acqua, convive in un modo improprio. Il Servizio delle Iene ha riportato alla ribalta nazionale la problematica della coesistenza dei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso e dell'autostrada dei parchi con la captazione dell'acqua. Inchieste, commissari straordinari e lavori di messa in sicurezza non hanno finora risolto il problema, aggravato dall'imminente arrivo in Abruzzo da Malak in Russia, di materiale altamente radioattivo, il Cerio 144, che servirà per l'esperimento SOX. Come direttore di laboratorio, se potessi decidere di non erogarla, sarebbe un grande sollievo. Nonostante tutte le precauzioni e le rassicurazioni dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il timore che un incidente possa contaminare l'acqua, che ogni giorno esce dai rubinetti di metà della popolazione abruzzese, mette i brividi e crea preoccupazione. Sul fronte sicurezza dei laboratori, anche grazie al tavolo tecnico e al protocollo firmato, qualcosa si sta muovendo, ma non basta. Nel prossimo futuro ci saranno dei lavori, come ha ricordato il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli, dichiarendo la posizione della regione Abruzzo in materia. Lolli si è detto deluso dall'atteggiamento del programma di Italia 1, che a suo dire, in modo strumentale, ha utilizzato una parte di una dichiarazione resa qualche mese fa. Hanno preso un pezzo di una mia dichiarazione di alcuni mesi fa, quando scoprimmo che c'era questo esperimento, nella quale io sostenevo che il tavolo sulla base del protocollo non era stato informato. perché il fatto che l'informazione sia stata fornita, l'ha detto il ministro, il ministro è stato interrogato in Parlamento e ha risposto al question time dicendo che sta tutto a posto. Sì, sta tutto a posto secondo le procedure generali, ma noi stiamo in un posto delicato e noi chiediamo procedure aggiuntive, tant'è che adesso abbiamo chiesto di rimetterci tutta la documentazione, la stiamo esaminando perché per esempio lì siamo in un parco nazionale e quindi siamo sottoposti a vincoli in più e in più noi vogliamo vedere se un'attività di questo genere debba o possa essere sottoposta a procedure aggiuntive, un via nazionale, una vinca, sono tutte cose che abbiamo comunicato formalmente in un incontro formale che ha fatto il tavolo con l'istituto, che l'istituto con grande senso di responsabilità ha riconosciuto ed ha accettato. I laboratori sotto il Gran Sasso restano un sito a rischio di incidente rilevante con materiale altamente tossico già stoccato al suo interno. Al di là delle autorizzazioni e delle carte bollate, sul tavolo resta una questione di opportunità valutare se sia necessario rischiare in presenza dell'acquifero del Gran Sasso. E fino a quando non ci saranno queste nuove accertamenti e autorizzazioni, per quanto mi riguarda quell'esperimento dal punto di vista della regione non deve procedere. Dopodiché io mi auguro che gli esperimenti si facciano, che il laboratorio prosperi, che l'autostrada funzioni. Noi vogliamo far funzionare le cose, però noi siamo anche i titolari del bene pubblico che è la salute e quindi abbiamo la responsabilità in più di, quando ci sono problemi così delicati, di aggiungere procedure ridondanti. Intanto la Commissione Attività Produttive della Regione ha approvato all'unanimità la risoluzione del Movimento 5 Stelle che chiede il blocco immediato e definitivo dell'esperimento radioattivo SOX. La risoluzione approvata impegna il Presidente, l'ha aggiunta tutta, a mettere in campo le azioni necessarie per interrompere e bloccare l'esperimento.